Bentornati, bentornati, bentornati a tutti amici, stacca su sta televisione che c'è l'audio se no, bentornati amici, scusate, bentornati camerata, bentornati comunisti, delusissimo da questa partita, squadra messa in campo in un modo indecente, cioè, ragazzi, pochi cazzi, c'è poco da dirci, se tu rimani in campo con Mancosu 70 minuti che ne ha passati 45 a passeggiare, ma non perché io ce l'abbia con Mancosu, ma perché fisicamente non può farti 70 minuti e tieni fuori, lasciate Prelez che ha sbagliato un gol clamoroso e quello è veramente grave, quel gol che ha sbagliato, quel gol è veramente, è veramente grave, ma è inutile Pavoletti che si incazza, che fa, che dice, che cose, è inutile, è inutile che si incazza o che dice, perché qua, qua, quando noi siamo, quando siamo entrati in campo, nessuno qui dentro la voleva vincere, nessuno qui dentro la voleva vincere, è inutile al novantesimo fare baruffe e Barreca ha salvato un gol, poi in realtà ha fatto un tiraccio a Jonsen, questo è un altro discorso, e abbiamo rischiato, abbiamo rischiato di perderla alla fine, grande Barreca, mi fa strano dirlo e sto rabbrividendo, per il resto è una partita indecente anche la sua da quando è entrato, è inutile arrivare al, arrivare al novantesimo e fare le baruffe e rischiare pure di prendersi i gol in contropiede, ste cose la liberani, ste cazzate la liberani, ste cazzate la liberani, perché bisogna cercare di fare gli inventori, i cosi, le rivoluzioni, perché, perché? E oggi ragazzi ti ha fatto una buona partita, ma poi non è che nessuno abbia fatto una brutta partita in assoluto, il problema è che con un sistema di gioco del genere nel primo tempo ci siamo trovati in occasioni potenzialmente importanti, dove c'era però il contropiedista che era da solo, era completamente da solo, perché, mancò su quel lavoro lì che gli ha chiesto di fare, non riusciva a reggerlo fisicamente, andava tolto a fine primo tempo assolutamente, Lella ha la sinistra, cioè, con tutto il bene, ma non ha fatto neanche una brutta partita, signor Nunzio Lella, ma mi spiegate, cioè, Azzi cos'è successo a Paolo Azzi? E' morto? E' morto? L'hanno portato con una barra di mogano nei convocati? Cioè, non lo so, ditemelo, ditemelo perché, anche Azzi qua, cioè, abbiamo giocato oggi col 4-2-3-1, l'ala sinistra, teoricamente, Azzi, ce l'hai proprio una, che si chiama Azzi, perché non l'hai messo? Cosa c'è? Perché non l'hai messo? Eh, cioè, c'è poco da dire, da inventarsi, da fare, da combinare. Allora, sto facendo un video, si sente tutto, per favore, potete fare silenzio 10 minuti? Grazie. Ecco, non è possibile, non è possibile veramente, è stata una partita indecente, e, ripeto, io ormai le guardo così, quest'anno è andata così, speriamo nel prossimo anno una stagione migliore, vediamo quest'anno dove ci porterà, non c'è convinzione, mi dispiace, mi dispiace, mi direte, magari i ragazzi del Cagliari mi diranno cose diverse, ma io oggi la convinzione di volerla vincere, questa partita non l'ho vista, e mi dispiace veramente tanto, perché oggi, vedendo il Venezia, mi sono reso conto che il Venezia è una squadra che ha dei problemi enormi, il Venezia non imbucava due passaggi di fila, il Venezia non ha fatto un cazzo in avanti, è stata una squadra ridicola, ma, ripeto, non è un'offesa al Venezia, sia chiaro per chi guarda questo video, e per, diciamo, ingrandire ulteriormente quanto noi siamo stati penosi di fronte a un avversario di questo livello che pensavo più forte, ma, ragazzi, cioè, tu dopo il primo tempo, allora, passi che non ti sei studiato bene il Venezia, pensavi giocassi in un certo modo diverso, e nel primo tempo, allora, l'hai studiato, ok, ma nel secondo, non esiste che rientri con lo stesso atteggiamento, nel secondo, il Cagliari doveva andare lì, e andare lì con la testa per vincerla, per vincerla, inutile al novantesimo farle baruffe, che vi devo dire, chi ha giocato bene? L'Uvumbo che ha fatto una partita clamorosa perché ha giocato sulla fascia, ha fatto espellere uno sul lancio clamoroso di Curfalidis, Curfalidis che ad oggi è il giocatore più forte del Cagliari, come già si era visto dalla primavera che è un giocatore clamoroso, ha fatto il trequartista, recuperava, cioè, è veramente un giocatore totale, lo puoi mettere ovunque, e... Curfalidis, appunto, Curfalidis, L'Uvumbo, e... E poi, e poi chi altro? Cioè, non è che dici hanno giocato male, ma che cosa vuoi dire? Cioè, cosa vuoi dire? Questa è la roba che abbiamo, questo portiamo avanti, io, bom, domani faremo, domani lunedì uscirà poi il video delle pagelle, ne parleremo più nello specifico, cioè, ma di cosa dobbiamo parlare? Sì, Dossena, Goldaniga hanno fatto una buona partita perché non hanno sofferto nulla, ma cosa c'era da soffrire? Cioè, ragazzi, la partita è indecente, e anche indecente, secondo me, per quanto mi piace Rog, Rog sia rimasto in campo 95 minuti, perché Rog è un altro che nel primo tempo è mancato di intensità, è mancato di... di intensità, di intensità, io non so se sia un problema fisico, sarà anche fisico, abbiamo tante assenze, sì, quello che vi pare, avrei provato anche qualcosa di diverso alla fine, onestamente, cioè, l'ottantesimo, io avrei cercato di essere anche un po' più propositivo, anche il cambio di Barreca al posto di Lella per far l'esterno alto, ma questo è un cambio per andare a fare che cosa? La difesa 6? Con Venezia che avrà fatto un tiro, due tiri in tutta la partita? Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, secondo me è stata gestita da cani, poi adesso se qua vogliamo fare censura o quant'altro, perché si tratta di Ragneri e allora nessuno può dire niente, io mi rimetto allora alle vostre volontà di censura, io mi permetto di dire che, secondo me, la partita è stata impostata e gestita da cani, ci sono gli infortuni, c'è un mercato invernale che è stato comunque penoso, al di là dei fatti di quant'altro, ma perché? Perché comunque, per tutte le cose che sappiamo, ci sono le incognite legate ai giovani, perché come vedete, lì una punta esperta, quel gol lo fa, Prelez, per un insieme, che poi non è entrato neanche male, però se tu sbagli quel gol la prestazione è insufficiente automaticamente, e questo è, questo è, quindi ci vediamo domani, ricchi saluti e ciao a tutti, un bacione.